cari amici appassionati di Motorsport ciao a tutti da Beatrice Frangione e benvenuti in questa nuova puntata di Motor News dedicata al mondo della Formula Uno una Formula Uno uscente dal Gran Premio d'Olanda che va a riaprire la stagione dopo la pausa estiva e una Formula Uno sempre più vicina a Monza in occasione del Gran Premio d'Italia andiamo a parlare un po' di tutto questo con il mio ospite di oggi il direttore di motorsport.com Franco Nunez ciao Franco buongiorno Beatrice buongiorno allora come ho anticipato nell'introduzione la Formula Uno esce da un Olanda che ha eh dichiarato Lando Norris come vincitore assoluto davanti a Max Verstappen Lando ha dominato con una McLaren aggiornata Franco che è diventata praticamente la monoposto di riferimento in questo mondiale. Sì io credo che la McLaren sia la macchina universale in questo momento capace di adattarsi a qualsiasi eh tracciato come caratteristiche veloci lente curve ad alto carico basso carico quindi in questo momento è certamente eh la vettura che ha indubbiamente superato la Red Bull da un punto di vista tecnico eh è vero che Max Verstappen ha 70 punti di vantaggio e quindi giocare alla partita di gestire lo abbiamo visto proprio domenica eh mentre in Ungheria eh quando ha dovuto subire gli attacchi della McLaren ha avuto reazioni in consulte di chi ha proprio perso il controllo della situazione nella sua gara di casa dove c'era un grande pubblico solo per lui ha avuto un atteggiamento completamente diverso molto razionale consapevole di quello che poteva essere il potenziale della macchina a disposizione quindi è un mondiale che eh spesso e volentieri cambia il protagonista ci sono ancora nove gran premi e Monza è una pista particolare dove il basso carico aerodinamico potrebbe un po' rivoluzionare eh di nuovo i valori in campo sarà interessante da seguire vedo che hai già anticipato un po' di domandine che avevo per te ma andiamo per andiamo per gradi restiamo un secondo su Max Verstappen e sulla Red Bull perché comunque Max è da Barcellona che non riesce a salire sul gradino più alto del podio che cosa sta succedendo alla Red Bull Franco? Ma io credo che la Red Bull sia vittima di una macchina troppo complicata eh che doveva determinare un grandissimo salto di qualità e riproporre una supremazia come abbiamo visto l'anno scorso e invece le difficoltà della macchina soprattutto in questo strano impianto di raffreddamento che è quadri ripartito in quattro livelli anche in altezza dei vari radiatori eh rende difficile il raffreddamento e eh il fatto che inseguano l'affidabilità del motore Honda un motore che è ciocato prima del previsto eh testimonia che probabilmente eh la stessa Power Unit Honda che veniva usata in piena potenza l'anno scorso quest'anno viene centellinata con più cura e attenzione per evitare di avere ulteriori rotture per cui c'è una macchina che eh ha un po' perso il bandolo della matassa e non riesci a tenere il ritmo degli sviluppi eh che ha portato in particolare la McLaren io a vedere una Red Bull che torna indietro di un fondo a qualcosa d'inizio stagione che gioca con due musi diversi due alle anteriore beh è una cosa anomala di solito eh mettevano su qualcosa e quello funzionava subito ora succede solo alla McLaren è normale anche chiederti perché in tanti si sono fatti questa domanda quanto magari stia influenzando l'assenza di Newy all'interno della squadra in questa fase così delicata secondo te sicuramente tutte le polemiche umane all'interno della squadra eh hanno un peso e devo dire eh è un lavoro ciclopico quello che sta facendo Christian Norman è di cercare di tenere tutti i coach insieme però eh è una squadra molto consistente non l'ho vista cinica a Zandor ed è la prima volta dove l'ho vista un po' subire eh la situazione e mi aspetto presto forse già da Monza una una reazione una reazione ehm come hai detto all'inizio la McLaren in questo momento però è la monoposto di riferimento diciamo anche e ti pongo quest'altra domanda che ci avviciniamo ad una fase della stagione dove ci sono delle tappe che non sono poi così tanto favorevoli sulla carta a questa R di venti se il mondiale piloti è difficile per Norris da agguantare però in quello costruttore si parla di una differenza in questo momento di soli trenta punti quindi quel titolo per la McLaren è veramente raggiungibile assolutamente sì eh devono mettere nella condizione eh la coppia di piloti di eh fare delle doppiette prima e secondo piastri quarto non serve a niente è la causa della McLaren non serve a eh eh Lando Norris che avrebbe bisogno di allontanare eh Max Verstappen dalla sua MCL trentotto e non serve eh ovviamente al team di walking per cercare di eh accelerare la fase del recupero ma quella che è la linea di tendenza mi sembra estremamente chiara Perez subisce non prende i punti che anche prende eh piastri per cui il bilancio è sempre nettamente favorevole alla squadra di Andrea Stella. Abbiamo visto in Olanda occupare sul terzo gradino del podio una Ferrari quella di Charles Clerk ed è stato un podio praticamente inaspettato per quali per quelle che potevano essere le aspettative. Ti chiedo che cosa ha funzionato secondo te per la Ferrari nel weekend appena passato e quali sono le aspettative per Monza se arriveranno degli aggiornamenti quali sono poi le tue sensazioni? Ma io credo che eh il terzo posto di Zandor sia stata una grandissima sorpresa anche e soprattutto per la stessa squadra eh per la scuderia perché parlavano al sabato di un miglior risultato che poteva essere un sesto posto con le Clerc è arrivato un podio a due secondi e mezzo dalla Red bull di eh Max Verstappen che non sarà vincente in questa fase però è ancora una macchina assolutamente competitiva quindi eh una Ferrari che nella notte fra sabato e domenica evidentemente si era persa qualche dettaglio del pacchetto globale e con coraggio se lo sono giocato eh tanto peggio non avrebbero potuto fare e incredibilmente all'improvviso hanno trovato una macchina in grado con tutti e due i piloti perché va detto sia le Clerc Sainz è partito decimo eh ed è risalito fino alla eh quinta posizione mi sembra che anche lì ci sia stata una prestazione più che più che dignitosa ho visto le dichiarazioni di Vasseur e parla di voler far gioire i tifosi a Monza è è vero che arrivano gli aggiornamenti speriamo che funzionino come hanno funzionato sulla McLaren ma far gioire i tifosi a Monza non credo basti un terzo posto quindi in modo indiretto eh il team principal ha lasciato intendere che la rossa nelle prossime tre gare e quindi Monza Baku e Singapore trova circuiti diciamo favorevoli alle caratteristiche della SF24 e potrebbe e dovrebbe eh tornare a essere protagonista a una soglia da puntare a qualcosa di molto molto interessante. Abbiamo visto però finalmente una Ferrari che ha osato durante l'Olanda durante il Gran Prima d'Olanda perché è riuscita strategicamente a far andare bene tutto ma anche i piloti, la squadra, cioè abbiamo visto finalmente quell'osare no? Che si faceva tanto in questi in questi mesi e finalmente lo ha fatto in maniera eh buona in maniera positiva Franco. Nessun difetto nella domenica di Maranello questo va riconosciuto, è un segno di crescita eh evidentemente l'attesa di un uccellino come Lewis Hamilton nel mondiale del prossimo anno sta creando una grandissima aspettativa. Io credo che la Ferrari sarà l'unica squadra a fare una macchina completamente nuova nel 2025. Quindi c'è una grande ambizione nel non aspettare il cambio di regolamento del 2026 per giocarsi delle chance e rompere gli equilibri. Eh Vasseur ci dice all'infinito che eh quattro squadre sono raccolte praticamente con le loro macchine in due decimi. Ecco il tentativo sarà quello di scardinare eh questi due decimi vediamo che cosa saranno in grado di fare. Visto che ci stiamo avvicinando al Gran Premi d'Italia oramai siamo lì ci stiamo entrando proprio pienamente eh Monza si può dire Franco che sarà in parte il fine settimana un po' dei giovani piloti no? Io partirei un attimo con quello che riguarda la Williams che proprio nella giornata di ieri nel tardo pomeriggio di ieri ha annunciato di voler puntare su un suo pilota un pilota della sua Academy ovvero l'argentino Franco Colapinto per andare a sostituire un Logan Surgeon che dopo l'ennesimo incidente avuto durante le prove libere eh in Olanda eh diciamo che ha lasciato spazio a qualche eh qualche pilota che probabilmente per il team potrebbe fare decisamente meglio. Si era pensato però a due nomi prima di Colapinto è stata un po' una sorpresa si parlava tanto di Mick Schumacher poi di Liam Lawson. Secondo te la scelta giusta per la squadra in questo momento secondo te? Eh la scelta mi sembra obbligata nel momento in cui la porta di Mick Schumacher si è chiusa perché il tedesco sarà eh ad Austin per correre con l'Alpin nel UEC e eh evidentemente l'Oson lo vogliono tenere come pilota di riserva qualora potesse succedere a uno qualunque cosa a uno dei titolari della Galassia Red Bull per per cui nel momento in cui eh il signor Wobles è andato lancia in resta nel dire che di Logan non ne voleva più vedere nemmeno la fotografia era evidente che ci voleva una situazione di cambiamento. E ti devo dire una cosa eh qui ci sarà una anche un altro debuttante che è Timi Antonelli. Eh sì. Eh la differenza con cui i due potranno entrare nel mondo della Formula 1 è terribilmente diversa. Mentre Kimi è stato preparato al debutto e non deve fare un risultato a tutti i costi, non deve sparare il tempo. Lui sa che Mercedes annuncerà subito dopo la sua sessione il fatto che diventerà il pilota ufficiale della Stella nel 2025. Poi è chiaro eh debutti in Formula 1 a 18 anni è la tua prima uscita dopo una scholarship fatta con le monoposto di Formula 1 precedenti. È evidente che eh sei davanti a un pubblico tutto tricolore che aspetta un pilota italiano la pressione inevitabilmente c'è. Ma la differenza è che la squadra non gli chiede niente. A Franco Colapinto viene richiesto di entrare in Formula 1 e fare meglio di Logan. Non sbattere la macchina e a Monza che è l'unica pista a bassissimo carico è una delle cose eh più complicate prenderla in mano da subito e sperare di contribuire al bacino dei punti. Quindi c'è una pressione rispetto a Kimi enormemente più forte e non invidio in questo momento Colapinto. Più che altro perché da quello che si è capito dall'annuncio della Williams lui proprio correrà per il resto della stagione quindi ovviamente tante aspettative sono su di lui ma secondo te questo potrebbe andare un po' a mettere in discussione eh oppure no quelli che saranno poi sedili del prossimo anno secondo te ci potrebbe essere un rischio. Quale ragione? Cioè mettiamo in discussione Carlo Sainz? Eh. Ragazzi di cosa stiamo parlando? No questa è una grande opportunità per Colapinto torna un argentino in Formula 1 dopo Gaston Mazzacane quindi andiamo indietro di venti e passa anni. Ventitré anni se non erro. Per ritrovare un un aggancio eh con il mondo bianco e azzurro. No è una grandissima opportunità un po' come l'ha avuta l'Oson eh l'anno scorso quello di rimettersi in gioco. Vediamo che cosa succede ma non parliamo di mettere in discussione eh gli abitacchi lo mettiamo in giro eh però il mondo il mondo veramente impazzisce come la panna eh da un giorno a quell'altro. E infatti proprio per questo te l'ho chiesto perché so che tu sai mettere benissimo un punto a certe a certe cose. Franco io non posso far altro che ringraziarti e augurarti un buon fine settimana in quel di Monza. Grazie per essere stato mio ospite. Vado al gran premio e sono curioso di scoprire. Ho un obiettivo. Capire se è la macchina sbagliata di New Way quella che sta correndo o se invece Pierre Vachet non ha non ha tenuto tutti gli appunti che New Way gli ha lasciato per lo sviluppo. Ti auguro allora di avere le tue risposte le risposte che cerchi. Grazie mille a Franco Nunez direttore di motorsport.com per essere stato qui con noi. Grazie mille Franco. Alla prossima. Ciao. Ciao ciao. Grazie. E noi cari amici siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Motor News e ovviamente ringrazio Luca Preti per il supporto alla regia e io vi do appuntamento a una prossima puntata di Motor News. Ciao a tutti e alla prossima. Grazie a tutti.